Questa volta, ai malviventi che hanno tentato di insidiare l'ennesima anziana, è andata male grazie ai suggerimenti dei carabinieri. Lei li ha scoperti e per poco non è riuscita a farli acciuffare. È quanto accaduto a Maria, un nome di fantasia, un 89enne di Zenevredo che nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata, il cui interlocutore, una donna, la spaventava dicendole che poco prima suo figlio aveva avuto un grave incidente stradale e che era stato arrestato, in quanto il conducente dell'altro veicolo coinvolto era deceduto. Il figlio si trovava in quel momento presso una non meglio precisata caserma. Allo stesso tempo le veniva detto che per evitare l'arresto doveva pagare subito un avvocato che lo avrebbe fatto scagionare da ogni accusa. La donna al telefono le diceva che poi, da lì a breve, sarebbe stata raggiunta da un carabiniere che le avrebbe prelevato denaro e preziosi da portare in pagamento all'avvocato. Mangiata la foglia, la donna interrompeva immediatamente la telefonata e dopo pochi istanti contattava la stazione dei carabinieri di Montubeccaria. L'anziana ringraziava così i militari della stazione perché nel mese di novembre dello scorso anno gli stessi le avevano raccontato dei vari tentativi di truffe e delle precauzioni da prendere, riferendo che, senza quell'incontro, avrebbe avuto difficoltà a capire come comportarsi.